Al fermo pesca tradizionale che bloccava già dagli anni passati l'attività di pesca nel periodo estivo per una trentina di giorni, si sommano anche delle giornate di fermo obbligatorio aggiuntive per le imprese che esercitano la pesca mediante l'utilizzo di attrezzi trainati con rete a strasci coevolante. Il fermo pesca, dettato da un protocollo dell'Unione Europea che varierà in base alla lunghezza degli scafi fino ad arrivare a un massimo di 39 giorni, è stato disposto dal Ministero lo scorso gennaio per un motivo ben preciso, ovvero che il mare è sempre più povero ed il pesce scarseggia. In questo modo i giorni lavorativi per le imbarcazioni si riducono notevolmente, ha spiegato Tonino Giardini, presidente di Coldiretti Impresa Pesca. In soli 150 giorni all'anno le imprese devono fare reddito per 365. Un problema che si riverbera anche non solo sulle imprese ma anche sugli equipaggi. Diciamo però che in questo momento quelli che stanno soffrendo di più sono le imprese perché l'equipaggio ha una perdita che è proporzionata al suo guadagno ma poi al di sotto di un minimo monetario non si scende. L'imprenditore se non riesce a far quadrare i propri conti va in perdita e lavorare 140 giorni, 150 giorni e riuscire a coprire tutti i costi e le spese per 365 giorni all'anno diventa assai difficile. O il pesce lo vendiamo a peso d'oro ma questo non succede perché il nostro paese importa l'80% del consumato, questo quindi significa che importa da paesi prevalentemente extraeuropei e quindi a prezzi bassissimi e questo va a calmirare, ad abbassare la capacità di far reddito delle nostre imprese perché il pesce gli viene pagato allo stesso prezzo delle importazioni che non coprono i costi. Su questo fronte ha continuato Giardini, siamo uniti sia noi come associazioni di categoria che con le associazioni sindacali. Tutti abbiamo a cuore il settore e vogliamo che queste diminuzioni di attività cessino il prima possibile o nel caso questo non sia fattibile poiché le risorse a mare sono in difficoltà chiediamo sostegni concreti. Quello che noi abbiamo chiesto sono due interventi da parte del governo, il primo è un sostegno alle imprese con, diciamo, come sta avvenendo adesso per il Covid, per, diciamo, forse speriamo un qualcosina di meglio perché finora anche le imprese a terra col Covid non è che abbiano ottenuto grandi risultati. Per i marittimi abbiamo la cassa integrazione quindi abbiamo già un supporto. L'altra soluzione è quella di poter fare in modo che le giornate di pesca vengano gestite con un plafond di giornate che le imprese utilizzano in base alle necessità, in base al mercato.